Allora, un problema oggi affligge il mondo, quello della foca monaca, mentre la foca monaca purtroppo la natura gli ha imposto di essere monaca, ma giustamente contro il suo volere, perché voleva poter essere anche un'altra religione, anche musulmana, buddista, poi non può avere una vita sessuale tranquilla, quale può essere una soluzione a questo problema e cosa ne pensi di questa situazione? Cosa ne pensate? Ma la foca monaca poteva essere anche buddista, ma che stai dicendo? Allora, ripetiamo. La foca monaca è un grave problema, perché purtroppo... La foca monaca, perché essere monaca deve essere un'importanza. C'è stato imposto, non è che è stata una scelta di questa foca, la natura gli ha imposto senza il suo volere, contro il suo volere. È giusto questo? Certo, è giusto. È giusto. Mi fate impazzire, perché queste cose le facevo io quando avevo tre anni, capito? Tra notte come avevo tre anni fa, sono cose belle, capito? Tipo che tu giri, questa cosa, se mi fai cercare le persone... Qu'è importante! Qu'è importante! Qu'è importantissimo, cioè, dacci una tua opinione, ma anche la tua vorremmo sapere, cioè, facciamo interessati. Hai, 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 hai. Hai, 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 se non ti capisco io che mi sta prendendo in giro, lei mi sta prendendo in giro, tranquillo, tranquillo. Tipo il Gertrude dei Promessi Sposi. Chi è Gertrude? Quello che si è fatta monaca per forza. Ah, sì, io, chi è Gertrude? La monaca di Monza? La minica Gertrude. Un po' di ignoranza in te. No, no, sono tutto. Sei dotto. Sei dotto. Sono molto dotto. Comunque, sì, secondo me la foca monaca è una bella foca, in quanto che, diciamo che è bella, no? Hai capito? Ah, per curiosità personale, perché stai facendo questa videocassetta? Per una rete austriaca. Che addirittura, c'è un infatti dei focchi monachi? Sì, sì, perché sono molto interessati a questo problema della foca monaca. Ho capito. Capito? Non ho nient'altro da dire sulla foca monaca, non è un problema che ti colpisce. La foca monaca mi colpisce immensamente. Va bene, sono contento che sia solidale con noi. Ma la foca monaca lo fa oppure no? Seconda volta. Ma io parlando con te penso che la foca monaca... Io ho messo la ignoranza nel... La foca monaca... Perché io ho questo dubbio? Sì. Essendo monaca... Dimmi, non lo può fare più. Ma non so. Potrebbe farlo però, per esempio, col fuoco prete. No. Conosce questa razza? Non può avere una vita sessuale tranquilla. Ma in che senso non lo può avere una vita sessuale tranquilla? Perché è monaca? Perché è stato imposto di essere monaca, quindi anche se lei aveva dei bisogni sessuali... Non lo può fare perché è monaca. E allora secondo te come si riproduce? Se non lo può fare? Vabbè, quello non posso dire la foca monaca. Le monache allora come si riproducono, scusami. Le monache non lo possono fare eppure si riproducono, hai capito? Certo. E' importante. Ecco, il fatto che la foca monaca sia al freddo, sia al freddo, è possibile che possa avere bisogno di qualcosa di fresco, giustamente. Per essere fredda? Certo, per essere fredda, è importante. Infatti questi frigoriferi sono molto freddi. Perché quando tu, per esempio, vuoi avere una stanza, una piella frigorifera a casa, perché se no non la puoi tenere. Perché se la tiene al caldo poi... Morirebbe subito, scusami. Entri in calore. Certo. Se la tiene al caldo, certo. Ma anche al freddo può entrare in calore. Sì. Certo. Tranquillamente. Non lo sapevi tu questo? Però è meglio che sia al freddo, perché sai, essendo monaca deve evitare... Deve evitare. Di stare al caldo. Certo. Ben che... Vabbè, però le monache sai, al caldo non ci possa stare in inverno. Ma... Ma... Proprio per evitare... Per evitare... Per evitare... Certo. Scusami. Ha tutta la pelle, uno strato di pelle... Ha un olio... Ha un olio particolare che lubrifica. E' grasso anche. E' grasso anche. Quindi... Proprio per questo forse si estingue. No, non si estingue. Invece è molto diffusa la pelle. Ah, è molto diffusa. Allora, perché è un problema. Se si stava estinguendo non era un problema questo. Ah, ho capito. Certo. Vabbè, si estinguerà. Un giorno, sì. Un giorno si estinguerà. Quindi già è un problema questo stesso. Come qualsiasi giorno. Comunque. Ho capito. Ma da quale Marocchino l'hai presa questa... Quello che c'è all'angolo qua sopra. Ma quando l'ha dato? Quando l'ha fatto ai 5.000? No, ai 5.000. Io ho trattato però 10.000 lire. Di un amico? Di un amico? No, così giusto. Ma la foca monaca l'ha fatto con Marocchino? No. Perché ti schifo? Essendo la foto monaca molto razzista. In quanto che... Tu sai benissimo che la foca monaca sta al Polo Nord, no? Mh. E' vero? Non lo può fare. Essendo nordista è molto razzista. Quindi tu non gli puoi dire... Ma sai valla a fare con Marocchino? Chi da lì da lì? Ma tutti i banamodini, capito? Andre dice queste cose. Quindi è così, capito? E quindi non te lo dirà mai. Ma questo è un grande problema. E' un grandissimo problema, veramente. Si dovrà risolvere. Però sì, un giorno lo risolveremo. L'importante è questo. L'importante è darsi da fare. Lo Stato, cioè... Saddam Hussein, Bush, tipo... Passeremo più avanti per fare firmare delle petizioni, se volete rimanere. Ah va bene, cioè noi siamo qui. Siete a disposizione? Sì, sì. Ok ragazzi, vi ringrazio. Se non ci siamo voi aspettateci. No. Vabbè, noi veniamo subito. Se vi troviamo. Vabbè, noi incocchiamo. Noi ci faremo trovare. Se passate subito, tipo, siamo qua. Ok, va bene. Ok, grazie. Eh, scusate ragazzi, ti posso porre una domanda? No. No, no, no. Ho indovinato. Ragazzi, che state facendo qua? Oh, che stiamo... Che state facendo? Chiedete che a poco a poco. Che state facendo? Chiedete che a poco a poco. Dovete aderire al club adoratori della pecora. Perché la pecora ci dà tutto oggi. La lala per vestirci, il latte per bere ed ha anche una mansione importante nel sesso. La pecorina. E allora? E allora? Viva la pecorina. Iscrivetevi. Giusto. Iscriviamo? Iscrivetevi. No, no, devi andare domani mattina in via del Greggio dal commercialista Caprino. Ok. Giovanni Caprino. A posto? Passeremo più tardi per far vedere la petizione. Ok. Grazie. Ok. Quindi tutti quanti, eh? Ma i paesi romani che vuoi fare? Sempre da via del Greggio. È un niente. Via del Greggio numero 170. È un niente. Vicino alla calata della marina. Io so. Ah, la calata della marina. Ok. Ciao. 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 Grazie.